Senza e scompari e bentornati su Giochi di Giornata Qui con il vostro Ashdart abbiamo un'altra guida agli acquisti Laptop contro il computer fisso e guida all'acquisto del computer fisso Ho voluto unire questi due concetti perché molti danno per scontato l'acquisto di un laptop Perché tu devi volere un computer fisso invece di un portatile? Un computer fisso ha tanti pregi e dei difetti Fisso, dalla parola stessa, non lo potrete portare in giro O meglio, è scomodo portare in giro e spostare un fisso Perché è un cassone, ha bisogno di un monitor, tastiera e mouse esterni Non ha una batteria, quindi lo dovete attaccare alla corrente Consuma molto di più di un portatile Quindi, come si fa? Dovrete valutare voi, ragazzi Se un taglio netto alle performance E accontentarvi di uno schermo 9 volte su 10 da 15 pollici da 1366x768 di bassissima qualità Valga il sacrificio rispetto a un computer fisso Spesso e volentieri si parla anche di silenzio, di rumorosità di un fisso Ma lì sta tutto quanto a chi crea il computer con meno se i componenti E se lo tenete pulito Un fisso richiede un minimo di manutenzione È possibile cambiare facilmente i componenti È possibile aggiornarlo È possibile sostituirlo È possibile fare di tutto Un computer fisso è sinonimo di personalizzazione E di performance al top Sempre e comunque, ovviamente, per la vostra spesa Avrete sempre il più delle performance per i soldi spesi Su un fisso rispetto a un portatile Leggasi un portatile da 600€ Andrà come un fisso da 150 Un fisso da 600€ Andrà come un portatile da 1000 Bene Se avete deciso che voi volete un computer fisso Tenete presente quello che dovrete fare con il vostro computer Ragazzi Nello scegliere la CPU Sappiate che la CPU non conta più di tanto nei videogiochi Badate bene di prenderne una X64 64 bit Ma è veramente difficile trovarle oggi a 32 Almeno molti dicono dual core Io dico ragazzi Prendete la quad core se potete Se non avete moltissimi soldi E volete una CPU che vi fa risparmiare Ignorate Intel e andate su AMD A fronte di qualche piccolo problema di calore Risolvibile con un dissipatore esterno Otterrete delle performance migliori In quel range di CPU Molto basse ed economiche sotto i 100€ In particolare è ancora molto molto valido Prima dell'uscita di Zen ovviamente E vedremo se starà ancora così Adesso che arriveremo a Natale L'FX 6300 L'FX 8350 Oppure la serie Athlon L'X860 Che è una CPU che costa veramente poco E va tanto È un quad core E lo pagate veramente poco E ve lo consiglio Per gaming si comporta molto bene Ho avuto modo di provarlo con Sensor 3 Con Sensor 4 E ragazzi fa il suo dovere È una CPU che fa veramente il suo dovere Voi mi direte Archdard con una CPU del genere Io non posso pretendere Chissà che scheda video Questo è vero Però tenete presente Che comunque Avrete un ampio margine di scelta Di scheda video Ora Io non vi consiglio di mettere Una 980 O una Titan Z Sotto questo processore O un processore come l'FX 6003 Però Se già vi prendete Una R9 390 Una R9 380 Avrete una buona GPU Al limite di quella CPU Come bottleneck E quindi che Bene o male Vi garantirà Un buon gaming Senza spendere troppi soldi Questo è per farvi capire Che la maggioranza Dei giochi Che potete giocare sul computer Fanno affidamento Sulla scheda video Ed è la scheda video Il primissimo componente Che dovete cercare di acquistare La RAM in sé Cambia molto relativamente Se non fate grossi lavori Di video editing Avete bisogno Per un utilizzo Molto specifico Che voi Se ne avete bisogno Già lo sapete Di tanta tanta RAM Di questi tempi Vuoi anche grazie Dal fatto che Quella DDR4 È ricrollato Un po' il prezzo Delle RAM 8-16GB di RAM Per stare tranquilli Andrete avanti Per parecchio Parecchio tempo Io dentro Ne ho 32 Perché comunque Faccio parecchi lavori Con la RAM E quindi Ne ho presi tanti Però 8-16GB Per gaming Vanno più che bene Sull'hard disk Non lesinate Comprate un bel SSD Perché la velocità In tempo di avvio Si sente E toglie Diciamo quello Che è fondamentalmente Il pezzo più lento In un computer Che è l'hard disk meccanico Non lo scartate del tutto Perché fare uno storage Solo ad SSD È fin troppo costoso Ancora Acquistate degli storage Molto grandi Anche magari lenti Giusto per Storare file Tenerci dentro file Che non vi servono Oppure che non vi importa Se ci mette Quei 10 secondi in più A caricare un gioco L'importante È che non vi occupa Tutto lo spazio Nel disco principale Per il case Ragazzi Sceglietene uno Ben areato Senza spendere Necessariamente troppo Dipende molto Dei componenti Che andrete a mettere Guardate bene Solo alla dimensione Del dissipatore Che metterete Sulla CPU Se non usate Il dissipatore stock E sulla grandezza Massima Delle schede video Che ci possono entrare Se vi comprate Una scheda troppo lunga E il case È troppo stretto Preparatevi Perché saranno Volatili per diabetici Detto questo ragazzi Il pezzo che sembra Più scondato per tutti È quello su cui Non dovrete mai Mai lesinare Sto parlando Dell'alimentatore Molti case Escono con preinstallato Un alimentatore Da 500 watt Ovviamente Senza alcuna certificazione Cinese Di bassa qualità Dipende però Su cosa lo usate Se ci attaccate Una APU Ragazzi Anche se Quell'alimentatore Non erogherà Mai Realmente 500 watt Andrà più che bene Perché Tenete presente Che nel preassemblato HP Che stai guardando Sul volantino Dell'Euronics Un alimentatore Di quelli c'è Quindi Tenete sempre a mente Cosa montate E se montate Una CPU Non molto esosa Di risorse Una scheda madre Piccola Poca roba collegata Una scheda video Tipo una 750 Ti Che non richiede Il connettore Power esterno Un alimentatore Di quelli Potrebbe funzionare Non vi durerà una vita Ed è a rischio Di rottura E di bruciarvi Qualche componente Io ve lo sconsiglio Però Se non dovete spendere Troppi troppi soldi Così ve la potrete Cavare lo stesso E iniziare comunque Nel frattempo Vedete da parte Qualche soldino E comprate Un alimentatore più grande A prescindere Non fatelo Se avete intenzione Di montare schede Come una 960 Una 970 O schede del genere Perché ragazzi Vi si brucia L'alimentatore E rischiate di fare Tanti tanti danni Bene ragazzi Questa era la guida Su come scegliere I componenti Spero che questo video Seppur relativamente breve Rispetto a tanti altri Vi sia piaciuto Mettetevi un pollice Su se vi ha aiutato A scegliere i componenti Per il vostro computer O vi ho risolto Qualche dubbio Qui e lì Mettetemi un pollice In giù Se avete appena Bruciato casa Con il vostro alimentatore Di Suki E quindi Siete in tenda Pure voi Ragazzi Mi dispiace Non so che dirvi La prossima volta Spendetela Con la 100 euro Su l'alimentatore Perché fidatevi Non è come Il pantalone dolce E gabbana Ne vale la pena Spendere quei soldi Su un buon alimentatore Se vi piacciono Questi contenuti Se vi sono state utili In qualche maniera E se vi piace Seguirvi Vi piace questo canale Cliccate il tastino Iscriviti E seguitemi Tutti quanti i video O aggiungetemi pure L'elenco delle notifiche Che vi usciranno Le notifiche Ogni nuovo video Io quindi ragazzi Chiudo qui Vi saluto Archdort Tune